Partiamo dal presupposto che una buona storia non ha bisogno di niente, non ha veramente bisogno di niente. La parola è il primo modo di raccontare dell'uomo e la parola non ha bisogno di nulla, ha bisogno di una intonazione, ha bisogno di un tempo del racconto. C'era una volta Capuccetto Rosso, la nonna disse a Capuccetto Rosso, è attraverso la parola che voi raccontate, raccontate la vostra giornata, la raccontate ai vostri figli, ascoltate il racconto dei vostri figli e dei vostri familiari. Non vi mettete certamente lì con casse acustiche, mixer, microfoni per raccontare quello che è successo sull'autostrada, avete assistito a una scena ridicola e comica in autostrada. Basta una semplice intonazione, basta cercare il modo di dare senso a quello che state raccontando. Allora ditemi voi per quale motivo oggi l'idea dominante è che il racconto deve essere sovrastrutturato, al racconto bisogna sovrapporre degli effetti. La parola non basta, bisogna quindi aggiungere delle immagini perché viviamo in una cultura di immagini, queste immagini normalmente sono dei filmati, sono dei video, perché viviamo in una cultura di quel genere, cioè attraverso immagini in movimento, queste immagini devono essere trattate, devono essere inserite al loro interno degli altri elementi, bisogna preparare dei set molto particolari, sia fisici che in studio e poco per volta si crea appunto questa idea che tutto debba essere complicato. La parola colpisce il vostro immaginario, qualcuno racconta e voi immaginate, l'immagine invece fissa, fissa quello che voi vedete che poi è quello che qualcun altro vi propone di vedere. Ma quindi che cosa ci vuoi dire? Mi chiederete, ci vuoi dire che dobbiamo smetterla di creare filmati video e basarci solo sulla parola, cioè racconto audio, la radio magari, la radiofonia, il podcast? Voglio dire che nel racconto, quello che conta è il racconto, quello che conta è la struttura del racconto, quello che conta è la relazione tra i personaggi, la psicologia che viene messa in mostra, è l'equilibrio che si determina fra quello che succede e quello che voi dovete immaginare per completare la storia, è l'equilibrio fra i personaggi, il loro ambiente, gli obiettivi della storia, la sua prosecuzione, che cosa viene tagliato, che cosa invece viene raccontato e in che modo. È la storia che conta, non il modo con cui la raccontate. Poi i modi possono essere tanti, ma il modo con cui raccontate una storia ha a che fare solo con la varietà della percezione. Possiamo scegliere una graphic novel, possiamo scegliere un podcast, una storia radiofonica, un audiolibro, un film, dei disegni, un fotoracconto, ma questo dipende da scelte che non hanno a che fare con la storia, perché la storia è la storia, è la storia che avete immaginato. Poi il modo di veicolarla dipenderà da che cosa? Per esempio dal budget che avete a disposizione, per esempio dal pubblico a cui vi riferite o da altre considerazioni. Magari vi state rendendo conto che avete prodotto troppi video e volete cambiare, ma sono tutti argomenti che nulla hanno a che fare con la storia, nulla hanno a che fare con la storia. E' vero che se poi voi volete realizzare un cortometraggio di tre minuti, dovrà essere riscritta bene affinché mantenga le sue caratteristiche, non affinché sia piegata al mezzo attraverso il quale voi la raccontate. Certo, il mezzo è importante, ci saranno degli accorgimenti attraverso i quali noi faremo in modo che quella storia sia adatta a una trasmissione radiofonica, a un audiolibro piuttosto che a una graphic novel, a dei fumetti, a dei video fumetti o a delle animazioni o chissà che altro ancora. McLuhan aveva profondamente torto a mio parere quando diceva che il mezzo è il messaggio. No, 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 il messaggio è il messaggio. Il mezzo poi si potrà decidere, si potrà scegliere. Oggi c'è un mezzo dominante nella nostra civiltà occidentale che è l'immagine, anzi di più direi che è proprio l'immagine in movimento, quindi film, filmati, video, ma è un dato culturale, non è un dato immanente alla storia stessa, se no noi dovremmo partire dal presupposto che tutte le tragedie greche sono inutilizzabili oggi, non sono più interessanti, invece forniscono un materiale incredibile proprio, pensate un po', all'ambito pubblicitario, marketing e di storytelling. Dunque, per quale motivo pensare, quando noi dobbiamo costruire una storia, pensare a come la storia deve essere veicolata o attraverso quali effetti noi la abbelliremo, tra virgolette, eppure tante volte mi si pone questa domanda, è la prima domanda che viene posta, ma io lo trovo veramente curioso. La prima domanda dovrebbe essere quale storia e come raccontiamo la storia, cioè la sua struttura, fammela leggere, parlamene, raccontamela, spiegami quali sono i punti fondamentali, i passaggi, poi decideremo in che modo raccontarla, poi lo decideremo in che modo raccontarla, ma alla base di questo racconto c'è l'ascolto, tu vieni da me, io ti ascolto, o io vengo da te, certo, chiaramente, anzi più probabile che io venga da te, ti ascolto, ti ascolto in un certo modo perché vado a cercare le storie da raccontare, quindi ti farò delle domande, sarà una conversazione molto particolare, molto molto particolare, perché io sono alla ricerca di quegli elementi che mi mettono nella condizione di creare una grande storia, indipendentemente da come questa storia verrà veicolata. Quindi attenzione, attenzione a considerare che la storia sia il mezzo e sia il modo attraverso cui viene trasmessa. Abbiamo parlato di questo perché volevo farti capire che la struttura della storia è la cosa più importante, la storia è la sua struttura, tutto il resto viene dopo, tutto il resto deve essere pensato dopo, ma inizialmente noi dobbiamo avere la mente sgombra per cercare di capire che cosa raccontare, senza nessun pregiudizio. Ma queste scelte devono essere fatte in base a un ascolto e questo ascolto deriva da una conversazione, una conversazione che si svolge tra me, te, i tuoi collaboratori, in via privata, una conversazione che toccherà degli elementi anche della vita personale, non solo della tua vita professionale, perché le storie hanno radici nel profondo e questo profondo noi lo dobbiamo tirare fuori per poi cercare di capire che cosa possiamo prendere e come lo possiamo raccontare. Ma come costruiremo questa storia insieme? Come io ricaverò questi elementi? Che cosa ti proporrò? E come possiamo andare avanti e creare il messaggio più adatto? Beh, questo però, come si dice, è un'altra storia, quindi la vedremo in un altro video di questo tipo. Bene, questo è quello che ti volevo dire per oggi, alla prossima occasione, ciao!